amici di antena sud ben ritrovati per il consueto appuntamento con le minime le massime astrologiche di segno per segno vediamo subito cosa c'è in serbo per la riete mari poco mossi non confondete attrazione fisica e sentimenti se non volete restare scottati da un'avventura occasionale gli astri vi favoriscono sul lavoro e gli aspetti pratici dell'esistenza per voi del toro alta pressione sintonia affettiva con chi vi ama cercate però di non soffocarlo con le vostre piccole manie o con i vostri infondati timori di incidenti e malattie tanto più che ha bisogno di concentrarsi sul suo lavoro per gli amici dei gemelli si prevedono piogge sparse se vi svegliate di cattivo umore vi conviene starvene per conto vostro e almeno non pesare sugli altri mercurio e marte vi invitano alla massima prudenza al lavoro sono possibili scontri di personalità cancro turbolenza in arrivo orgogliosi e permalosi in amore non vi pieghereste mai a fare il primo passo verso la riconciliazione non sprecate le occasioni che vi si prospettano e per i nati del leone si prevede clima caldo il vostro cuore trabocca di soddisfazione di gioia ma solo in casa dove l'affetto e la riconoscenza di chi vive con voi si manifesteranno in tutta la loro intensità vergine per voi cieli terzi grazie ad un delicato gioco di incastri che porterete avanti con determinazione oggi potrete definire una faccenda professionale proprio secondo i vostri desideri e a sera festeggiate con chi vi ama ed è grigio invece il cielo dei nati della bilancia siate più responsabili e meno polemici in famiglia un po di nervosismo potrebbe sporvi a colpi di testa di cui potreste pentirvi attenzione il lavoro vi richiederà un notevole impegno affrontatelo con ottimismo ed energia per i nati dello scorpione mari agitati contrasti con un superiore evitate di insistere riuscireste solo ad irritarlo quando si calmerà capirà di aver preso una cantonata e tornerà da voi con offerte di pace l'occasione può tornarvi utile e per il sagittario sole in arrivo vi sentite sempre più coinvolti sentimentalmente continuate a dare sempre più spazio alla reciproca conoscenza e al dialogo un buon rapporto e fatto anche di voglia di costruire insieme e il clima è in mite per i nati del capricorno molte soddisfazioni in famiglia dove l'affetto e la riconoscenza di coloro che vivono con voi vi riempiranno di gioia e intima serenità sul lavoro il tran tran quotidiano viene finalmente derrotto da un'occasione fortunata e per l'acquario alta pressione ad alcuni fortunati appartenenti al segno potrà capitare di vivere un'avventura passionale travolgente rimarrete come sospesi fuori dal tempo e dalla vita quotidiana ma potrebbe essere solo un momento e infine temperatura impicchiata per i pesci non cedete all'impulso di chiudervi voi stessi e a trascurare le molte esigenze dei vostri cari se non vi farete prendere troppo dagli impegni lavorativi e starete con i piedi per terra riuscirete a far fronte a tutti i vostri doveri e io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che l'appuntamento con segno per segno torna domani mattina vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci